Parliamo di Creed 3. Attendevo tantissimo questo film, tanto da averlo inserito anche nella lista dei film 2023 più attesi e lo attendevo in realtà anche prima di recuperare la saga originale di Rocky perché infatti l'ho recuperata solo l'anno scorso fortunatamente l'ho recuperata direi, ma avevo già visto comunque i due film su Creed ed è per questo che appunto attendevo già il terzo capitolo Naturalmente dopo aver recuperato i primi sei film, i sei film originali della saga, l'interesse verso Creed 3 si è moltiplicato assolutamente La recensione di oggi come molte sul canale sarà divisa in due parti, quindi una parte senza spoiler iniziale poi una piccola avvertenza e si passa subito alla parte con spoiler, quindi con i dettagli del film Ma prima di iniziare come sempre vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link dei miei social tra Instagram, TikTok e Letterboxd i social su cui ho scritto una piccolissima recensione subito dopo essere uscito dalla sala quindi se volete un'opinione flash su un film o una miniserie perché non si può parlare di serie intere sul social c'è proprio l'impossibilità di farlo, vi invito a seguire anche quel profilo In descrizione ci sono anche i link di Pumpling e del Fantasia Store Su Pumpling trovate t-shirt, calze, poster, tazze, zaini, chi più una più ne metta c'è davvero tantissima roba e con il codice ilpensiero4 avrete un paio di calze gratis mentre sul Fantasia Store trovate Funko Pop, manga, carte collezionabili, carte da gioco, giochi in scatola e tanto altro e con il codice ANDRI5 avrete il 5% di sconto su tutti i prodotti non già scontati del sito Adesso però parliamo del film Come ho già detto lo attendevo tantissimo e tutto sommato dopo averlo visto posso dire che lo reputo uno dei migliori film visti nell'ultimo periodo perché naturalmente l'ho preso per quel che è comunque un film di intrattenimento e lo fa nel modo migliore possibile ci sono alcune cose che non mi sono piaciute una tra tutte mi ha deluso davvero tantissimo ed è quello che non me lo fa valutare al 100% positivamente ne parliamo magari a breve, tanto se ne può parlare anche senza fare spoiler però ripeto appunto il suo compito lo svolge benissimo intrattiene, diverte e soprattutto gasa tantissimo una cosa che mi succede spesso, penso anche comunque sia normale con i film di Rocky e di Creed più per Creed perché per quanto mi riguarda forse una popular opinion preferisco più Adonis Creed che Rocky Balboa anzi non forse, penso sia una popular opinion totale fatto sta che comunque appunto Creed 3 mi è piaciuto tantissimo e vi consiglio già da subito di andarlo a recuperare se intanto avete visto gli altri film se non li avete visti prima guardate Rocky, non fate il mio stesso errore, prima guardate i sei film di Rocky poi guardate i due film di Creed e poi andate in sala, assolutamente in sala a vedere Creed 3 è un film da vedere in sala, non aspettatelo a casa perché non è così Michael B. Jordan ha comunque fatto il suo solito lavoro a livello attoriale sempre in forma, non solo fisicamente ma anche qualitativamente parlando è comunque un bravo attore ed ero curioso di vedere invece Jonathan Major perché dopo averlo visto sul finale di Loki e in Enterprise and the Wasp Quentumania diciamo che ero curioso di vedere la sua interpretazione perché sì, come dicono in molti lì nella Marvel al momento con i suoi due personaggi in realtà è lo stesso ma sono due versioni differenti quindi due interpretazioni differenti se possiamo dirlo così citando Boris in molti dicono che fa tante faccette faccette alla martellone ed è anche vero quindi volevo vedere se le avrebbe fatte anche in Creed 3 le faccette ci sono, molto meno in confronto a Kang ma le faccette che vediamo qui sono magari un po' più contestualizzate visto il personaggio, comunque il momento in cui ci sono queste faccette comunque anche l'interpretazione di Jonathan Major mi è piaciuta io l'ho visto solamente appunto in Creed 3 nel Marvel Cinematic Universe, nei ruoli di Kang avrei da vedere in realtà la serie Lovecraft Country dove si dice si è stato bravissimo quindi magari vi farò sapere per questo andate a seguirmi su Instagram qui Michael B. Jordan esordisce alla regia quindi è il suo primo film da regista e devo dire che si è comportato nel modo migliore possibile ha già detto al di fuori in interviste, in robe varie che nei combattimenti, nei match si è ispirato tantissimo agli anime soprattutto Dragon Ball e la cosa si vede tantissimo perché oltre a questi riferimenti i match sono davvero qualcosa di stupendo mettono un hype assurdo sono diretti bene per essere appunto la sua opera prima si è comportato nel modo miglior possibile Michael B. Jordan con movimenti di macchine interessanti non sono per nulla confusionari come match le scene di combattimento le coreografie sono tutte lineari e anzi molto spettacolari più che lineari perché questi riferimenti e alcune chicche nel montaggio con slow motion messi nel momento giusto e nel modo giusto è davvero uno spettacolo per gli occhi quindi Michael B. Jordan comunque un bravo attore è un bravo regista soprattutto contando che questa è la sua opera prima ripeto spero che non si stagni sul personaggio di Creed comunque sui film di Creed a livello di regia ha già confermato che Creed 4 è in fase di sviluppo forse lo dirigerà anche lui chi lo sa ma spero che vada spaziando un po' con altri film non solo i film su Adonis Creed sarei molto curioso di vedere il suo adattamento con altri tipi di film davvero non smetterò di dirlo ma i match sono qualcosa di fantastico la storia è comunque abbastanza lineare alcune cose sono persino prevedibili sfortunatamente anche se non è una cosa che mi ha dato tantissimo fastidio sono riuscito a prevedere alcuni risvolti di trama ma non è un difetto così grande forse un piccolo difetto è che queste cose erano prevedibili a causa del trailer che a questo punto dice un po' un po' troppo sullo svolgimento della trama da alcune scene che magari fanno anche qualche riferimento al passato dei film di Rocky si può arrivare a qualche piccolo colpo di scena ma ripeto questo non è il difetto ma ripeto questo non è il difetto più grande visto che l'ho citato vi dico il difetto davvero grande che mi ha dato molto fastidio anzi più che fastidio mi ha molto deluso in Creed 3 ovvero la scomparsa totale di Rocky ok metto le mani avanti sapevo già che Sylvester Stallone non sarebbe comparso in questo film e che Rocky non sarebbe comparso in questo film e questa cosa non mi avrebbe dato fastidio se solo avessero spiegato un minimo che fine ha fatto Rocky in questo universo perché sembra davvero che se lo siano totalmente dimenticato che non sia nemmeno comparso negli altri film viene citato pochissimo e nemmeno come magari parte dello sviluppo emotivo e personale di Adonis ne parlano come un personaggio del passato ok è stato lì ma totalmente distaccato dalla storia attuale ed è una cosa che non mi è piaciuta assolutamente non è spoiler perché appunto non succede niente del genere ma mi sarebbe bastato anche un semplice Rocky è morto o una lapide accanto a quella di Apollo non lo so o Rocky si è trasferito Rocky all'ospizio dove volete basta che comunque un minimo di riferimento in più il nome Rocky viene citato un paio di volte davvero forse due o tre volte totali in due ore e mezzo di film poi c'è un minimo di riferimento musicale in una certa scena anzi la colonna sonora del film ottima e poi davvero basta niente Rocky niente Rocky ma non in Creed 3 sembra che non sia mai esistito i protagonisti del film al contrario magari degli altri due Creed qui sono solamente appunto Adonis e Dame Damien il suo ex amico che appunto arriva a incontrare sul ring gli altri personaggi hanno uno spazio ancor più secondario degli altri film quindi Amara la figlia di Creed che qui è più cresciuta perché sono passati degli anni più anni di quelli che sono passati realmente da Creed 2 a questo Creed 3 ecco Amara, Bianca, Duke questi personaggi sono davvero secondari vengono lasciati molto da parte anche in un risvolto abbastanza importante che avviene a metà film che dovrebbe cambiare un po' le carte in gioco magari facendo cambiare qualche pensiero su qualche personaggio avrebbe voluto tutto un po' più presente cambia qualcosa con questo risvolto centrale ma si poteva fare in modo diverso ne parliamo naturalmente nella parte spoiler oltre ai match anche le scene d'allenamento come sempre gasano tantissimo sono davvero elettrizzanti nel film non è uno spoiler compare anche Drago il figlio di Ivan Drago che avrà anche un film dedicato film che tra l'altro penso che si trasformerà in trilogia se non direttamente saga come questo Creed perché anche Creed secondo me arriverà al sesto film due trilogie quindi potrebbe aver senso in qualche modo dedicare un film a Drago ora che visto anche il finale di Creed 2 è cambiato sembra un po' strano vedere qualche scena in questo film tra Drago e Creed ma ci si può passare sopra soprattutto pensando ai legami che in realtà i due figli hanno con i padri ma passiamo a parlare della presentazione di Damien del villain di questo film che inizia ovviamente non da villain lo vediamo anche nei trailer erano amici in passato e di conseguenza quindi piano piano si inizia a presentare la sua vera natura c'è comunque una sorta di retcon in tutto questo che però non dà particolare fastidio visto che viene giustificata all'interno di questo film quindi viene detto proprio che anche il protagonista in qualche modo ha voluto dimenticarsi di quella storia quindi non è esistita fino a questo terzo capitolo perché anche per i personaggi era una storia quasi dimenticata e quindi inutile da presentare nei contesti cosa che non avrei voluto anche per Rocky a questo punto invece è stato così è quasi impossibile che non venga davvero citato mai in nessun modo oltre che qualche riferimento storico però tornando a Dame e a Jonathan Major ripeto ha fatto comunque un lavoro decente interpretando il ruolo sembra molto più minaccioso di Kang questo sì forse anche perché è molto più grosso ed è anche più grosso di Michael B. Jordan ma del resto comunque è uno dei soliti villain da questo tipo di film sì mi è piaciuta comunque la sua evoluzione perché c'è un'evoluzione fino alla fine mi è piaciuto qualche piccolo colpo di scena che fortunatamente non ho previsto sia all'inizio del film perché proprio all'inizio ci sono anche alcune cose interessanti alcuni risvolti alcuni plot twist ripeto che qualche faccetta all'interno del film c'è stata però è rilegata di più ai match quindi in momenti un po' di tensione in cui qualche movimento strano di bocca potrebbe anche avvenire e quindi non un grande problema il match finale oltre ad essere diretto in modo stupendo ci sono anche degli effetti visivi niente male davvero alcuni concetti proprio che non si sono mai visti all'interno di questi film e che sono credo idea totalmente proveniente dalla testa di Michael B. Jordan e per questo stima tutto davvero ben realizzato e come finale comunque del resto molto semplice non contando il match diverso dal solito e che forse innalza il più possibile questo film in confronto agli altri due quindi mi sento comunque di promuovere a pieni voti Creed 3 non al 100% per diversi problemi di cui ho già parlato ne parleremo adesso ora anche nella parte spoiler quindi se ancora non avete visto il film vi invito a uscire da questo video se volete supportarmi gratuitamente basta lasciare un like condividere la recensione con chi è interessato a vedere il film o comunque chi vuole discuterne perché infatti avete i commenti liberi potete scrivere di tutto e di più se farete spoiler contrassegnate il commento con la dicitura spoiler poi lasciate qualche spazio e scrivete il commento per non rovinare la visione a chi ancora il film non l'ha visto e adesso direi di passare ai dettagli di Creed 3 quindi gli spoiler iniziano tra 3, 2, 1 come prima cosa voglio parlare del motivo per cui Dame il personaggio di Jonathan Major ce l'ha con Creed ovvero il fatto che da giovani nel 2002 non so quando si è ambientato questo film però a livello di date ci sono alcuni problemi secondo me perché se non sbaglio Creed 2 era ambientato nel presente ma qui si parla di una detenzione di Dame per 18 anni avvenuta dal 2002 in poi quindi teoricamente dovrebbero essere nel 2020 e con l'età di Yamara le cose non tornano perché non penso abbia comunque un 3-4 anni non sembra assolutamente avere 3-4 anni quindi forse a livello di date si poteva fare un po' di meglio essere più concentrati però appunto tutto inizia nel 2002 con una rissa causata proprio da Donnie che porta il personaggio di Dame ad uscire il ferro con conseguente arresto perché arriva la polizia e Donnie però scappa perché ovviamente non vuole essere arrestato la madre non sapeva nemmeno fosse uscito di casa e quindi lascia al suo destino l'amico che comunque in teoria rimane amico per un po' di tempo continuando a mandare lettere dal carcere a Donnie lettere che però non arrivano a Creed perché la madre gliele nasconde quindi si dimentica in qualche modo dell'amico in carcere il film comunque inizia proprio presentandoci il 2002 quindi il periodo in cui viene arrestato Dame con un'introduzione al fatto che in realtà il vero amante del pugilato era proprio Dame più che Donnie tutto l'odio comunque inizia da questa vita rubata anche se poi nel film in realtà non viene detto al 100% in questo modo cosa che nel trailer invece è stata fatta però si vuole appropriare del ruolo di campione mondiale dei pesi massimi cosa che riesce a fare visto che assolda un suo ex compare di galera per rompere il braccio a Drago perché doveva avvenire un match tra Drago il figlio ovviamente di Ivan Drago e l'attuale campione dei pesi massimi non ricordo esattamente come si chiami ma Frenky se non sbaglio Frenci o qualcosa del genere il match non avviene causa Drago ovviamente tutto voluto da Dame e arriva a scontrarsi lui con il campione dei pesi massimi vincendo perché è nettamente più forte e soprattutto nettamente più scorretto la scorrettezza del personaggio si presenta più volte in diversi match sia questo qua con il campione dei pesi massimi sia quello sul finale con Creed fa tanti colpi illegali nel pugilato ma agli arbitri non so per quale motivo non sembra interessare tantissimo nel film arriva a morire anche la madre di Creed a causa di un'ischemia cosa che si era già ripresentata tempo prima è stato detto però nel film non si è visto però è stato detto ed era questo l'elemento che avrei voluto più importante all'interno del film invece sì per quel momento per quelle scene è sicuramente emotivamente impattante ma viene un po' dimenticato troppo velocemente anche sul finale avrei preferito un riferimento al fatto che una donna a cui Creed teneva tantissimo non c'era più e invece no viene dimenticato un po' troppo velocemente nonostante fosse importante e nonostante comunque sia stato importante per far arrivare il messaggio al cervello di Creed di sconfiggere il suo ex amico non voglio parlare di Rocky ne ho già parlato io avrei preferito una minima scena anche un solo dialogo di una spiegazione però ne ho già parlato nella parte senza spoiler direi di passare direttamente ai match con i mille e milla riferimenti agli anime soprattutto a Dragon Ball io non sono un fan di Dragon Ball però conosco qualche scena e soprattutto ho visto il film con un fan spiegatato di Dragon Ball quindi ho avuto modo di poi vedere qualche immagine qualche riferimento effettivo tipo questo o questo anche perché ci sono diverse scene totalmente copiate e incollate in Creed 3 non è un male assolutamente anzi sono state ben dirette ripeto che Michael B. Jordan ha dato modo di far vedere che oltre ad essere bravo come attore è bravo anche come regista con questi match e mi è piaciuto tantissimo il match finale oltre ai riferimenti per esempio qualche effetto visivo che non si era appunto mai visto in nessun match di questi film di Rocky e di Creed infatti vediamo i due amici che i due ex amici in realtà che combattono e attorno a loro scompare la folla totalmente sono all'interno di uno stadio deserto non so se si chiama stadio perché non segue il pugilato però in un luogo deserto non c'è nessuno naturalmente tutto nella loro testa e poi il ring si trasforma in una cella quando Creed vince perché sì Creed alla fine vince con una scena che ho apprezzato tantissimo un momento di di mancanza del personaggio di Jonathan Major scopre il volto e lui ha la possibilità di attaccarlo lì quando Creed vince di sottofondo c'è la traccia solita delle vittorie di Rocky questo è l'unico riferimento al personaggio a parte qualche piccola qualche piccola citazione del nome poi del resto basta davvero deluso da questa cosa non so cosa sia successo tra Sylvester Stallone e la produzione so che ci sono stati alcuni litigi un po' anche pesantucci che poi sono stati un po' calmati magari da qualche manager da qualche agente di Sylvester Stallone stesso però ho come l'impressione che all'inizio magari non dovesse comparire comunque Sylvester Stallone proprio per questo l'attore si è arrabbiato in qualche modo ha detto tutto quello che abbiamo scoperto poi successivamente grazie a qualche intervista qualche tweet e magari nonostante però non dovesse comparire avevano inserito davvero qualche piccola spiegazione sulla fine del personaggio solo che dopo tutto quello che si sono sentiti dire da Sylvester Stallone magari hanno proprio levato la scena per non dare risalto a Rocky però è una cosa che non ho apprezzato comunque a livello personale spero però non sia successo nulla di che tra Michael B. Jordan e Sylvester Stallone perché avevano una una chimica comunque molto interessante negli altri due film e mi dispiace pensare che si siano litigati pesantemente i due comunque tornando al film nel finale dopo che Dame viene sconfitto i due comunque si incontrano negli spogliatoi fanno il loro saluto che si è visto a inizio film poi mai più perché comunque non hanno avuto modo di salutarsi più da amici e di conseguenza penso che comunque il personaggio tornerà anche in Creed 4 magari come personaggio più secondario ovviamente che farà da spalla non so sembra un po' difficile vederlo proprio come amicone di nuovo di Creed ma sicuramente tornerà credo che Creed poi lo rivedremo magari se non ci saranno altri capitoli dopo il quarto lo rivedremo magari in Drago a meno che non muoia sul ring come il padre cosa che non voglio assolutamente anche perché in realtà non so se tornerà direttamente più sul ring visto che già in questo Creed 3 fa solo da da allenatore almeno mi sembra essere più allenatore che combattente visto che si è ritirato dato che sono passati degli anni e non ho ancora capito bene le date non so quando è stato ambientato questo film non so soprattutto quanti anni abbia Amara che ripeto è un personaggio un po' più marginale ma avrei preferito un po' più di spazio all'inizio danno un po' di spazio al suo personaggio con il fatto che è attirata dal pugilato da suo padre e picchia una una bulletta a scuola scena che tra l'altro questo voglio dirlo viene presentata un po' a caso così di botto perché abbiamo prima di questa scena ambientata all'asilo comunque alle elementari abbiamo Creed Dame e Frankio comunque il campione dei pesi massimi all'interno della sala degli allenamenti e con questi due che stanno iniziando ad allenarsi e la scena viene totalmente tagliata per passare alla scuola per passare alla scena con Amara forse questo è l'unico problema di montaggio che non mi ha non mi ha convinto al 100% perché è un taglio netto di quella scena che avrei voluto vedere perché non penso assolutamente sia finita così con loro due che si guardano in cagnesco sul ring senza iniziare ad allenarsi visti poi alcuni risvolti del personaggio di Dame visto che è molto violento anche semplicemente negli allenamenti vedere lo stesso Creed che non parla di questo allenamento mi è sembrato strano ma ragazzi comunque ripeto il film mi è piaciuto tantissimo se l'avete visto fatemi sapere cosa ne pensate con un commento se volete fare spoiler vi ho già detto cosa fare vi ricordo che in descrizione ci sono i diversi link tra i miei social i link di Pampling e di Fantasia Store rispettivamente codice il pensiero 4 per un paio di calze gratis e Andri5 per avere il 5% di sconto e niente io sono Andri questo è stato un altro mio pensiero per voi noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale Andri passa e chiude ciao